Ciao ragazzi, sono Milen dei Due Lemori e questo qua è un video in cui voglio farvi vedere la mia postazione, siamo a camera mia, a casa mia e questa è di solito la postazione in cui lavoro, in cui faccio i video per qualche riesco a fare, insomma quella che uso io solitamente a casa mia. Ma direi bando le cianci e ciancio le bande, via al video. Direi di partire con il computer, classico, quello che uso io ovviamente, tastiera retroilluminata, con doppio schermo per il supporto, nel senso che oramai sono abituato ad avere due schermi, ed è veramente molto comodo. Io prendo le cartelle, me le posso mettere di qua, mettere di là, insomma chi utilizza questa modalità già ormai sa quanto sia comoda. Vabbè un coniglietto classico e ho un altro monitor, perché? Perché praticamente questo qui, questo monitor qui, questo è collegato al pc e lo uso per il pc, questo qui invece lo uso praticamente come multischermo, come multiview. Mi spiego meglio. Mi diverto ogni tanto quando facciamo le videochiamate, ok? Con le videochiamate sapete che c'è ovviamente la webcam, ok? Che può essere una camera esterna, oppure quella integrata del computer. Mi diverto praticamente con più camere, ok? Quindi ho più sorgenti, mi diverto a cambiarle. Mi spiego meglio. Io adesso per esempio ho collegato questa camera qui di fronte. E con questo programma, ok? Questo qui nero, praticamente cosa succede? Che io vedo questa camera, quello che vede la camera, io lo vedo qua dentro, ok? C'è un cavetto che esce e me lo fa vedere qua. Poi praticamente con questi bottoni, ok? Io posso selezionare quale camera mandare in onda, ok? Quindi io magari ho tre camere nell'ingresso numero uno, nell'ingresso numero due, nell'ingresso numero tre. Io le vedo tutte qua dentro, ok? Contemporaneamente e poi scelgo quale mandare, diciamo, in onda. E' un aggeggio molto carino, ovviamente, e appunto permette di cambiare in modo diretto le camere. Adesso vi faccio vedere praticamente cosa intendo io, ok? Adesso aspettiamo che parta, così vi rendete conto. Ovviamente uso anche quest'altra camera, che adesso, vabbè, non ho collegato. Ecco, ok? Accendiamo la camera. Vabbè, volendo, ho anche lo schermino che si ribalta, però in questo caso non mi interessa. Sì, magari lo tengo per i volumi, ok? Vedete che lì ci sono i volumi, perché? Perché sto utilizzando questo microfono. E' collegato lì dietro con un gecchettino, quello lì, e sto praticamente usando questo qua. Adesso io accendo, ok? Ovviamente vedrete una sola camera, perché, perché ovviamente sono collegato solo io. Adesso facciamo così. No, vabbè, rompo un po' tanto le scatole. Ok. Allora, con la camera qui, questi qua sono tutti gli ingressi. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, ok? Che sono appunto i tastini, dall'uno all'otto. Adesso io ho il rosso, ok? E' la camera che è in onda. Ok? Io posso andare sulla 2 e va in onda la 2. Posso andare sulla 3, posso andare sulla 3, la 4, eccetera. Ovviamente qui non le vedete. Vedete? Perché appunto non ne ho collegate. Se avessi collegato la numero 2 qui, in questo riquadro, avrei visto la numero 2. Cosa succede? Vedete che il riquadro rosso rappresenta praticamente la camera che è in onda. E viene riproposta qua in alto, in questo quadratone, che si chiama program. Ok? Si chiama program. Se io voglio andare sulla camera numero 1, che è questa, ok? Infatti vedete, l'unica attiva, ci sono i livelli dell'audio. Vedete che adesso il cerchiolino rosso si è spostato proprio su quella camera qua, che è questa qua, frontale, ok? Vedete il cellulare. Questo qui è il preview, cioè è l'anteprima. Il program è questo qua, ok? Poi io posso mettere sulla 2, ok? Vedete che va nero, ovviamente. Poi vedete che il quadrato sulla 3 si sposta. Vado sulla 4, sulla 5, eccetera, ok? E questo è un po' come funziona l'uso, perché vabbè, è molto carino, divertente e mi piace. E questo qua sono sempre io, ancora, ok? Con i vari livelli, tutte le impostazioni e tutto quanto. Questo qui sotto, adesso questa volta possiamo anche spegnarla, ok? Ok, spegniamo così non fa più rumore. Ok, questo qui sotto, altro non è che un registratore, infatti vedete, questa qui è una SSD, ok? Della Samsung, ok? Da un terabyte di memoria, ok? Lo si inserisce qui dentro, ecco. E praticamente, schiacciando REC, lui comincia a registrare. Qui ovviamente mi fa vedere quello che verrà registrato, quindi alla fine è il program, ok? Vabbè, è un manopolo per le impostazioni, poi pausa, play, stop, insomma, classici pulsanti di un registratore. Ha due slot, perché posso inserire due slot. Nel momento in cui questo qui è pieno, lui passa automaticamente sul secondo a registrare. Io posso togliere il primo, svuotarlo e rimetterlo, così quando anche il secondo è pieno, lui ricomincia a registrare sul secondo. Oppure, metti caso che questo si guasti, allora lui va direttamente sul secondo a registrare. Quindi abbiamo lo switcher più il registratore. E cosa succede? Quando a volte faccio Skype, ok, quindi le videochiamate, posso usare questo qui. In questo sistema qua. Io esco dal segnale qua, vado nel registratore e il registratore esce. Esce e va in questo scatolino qui. Questo scatolino qui lo userete in parecchi. Non sarà magari uguale a questo, ma sarà simile, perché cos'è? È praticamente una scheda di acquisizione esterna. Cioè, il computer ha solo delle uscite esterne, no? Delle uscite. Questo qui però deve entrare, infatti, con un cavo USB-C. Da HDMI va in USB-C. Ok, il classico USB-C. Io riesco ad andare qua nel monitor. Ok? Anzi, volendo, vi posso anche far vedere. Però dovrei attaccare anche il registratore. Comunque, praticamente, esco da questo qua grigio. Ok? E vado qua dentro. Quindi è comodo anche per registrare, insomma, per tante cose. E, niente, dopo ho, vabbè, le cuffie, quando non devo, insomma, disturbare gli altri. Casse, una a destra e una a sinistra. E basta, vabbè, questo qui è le schede di memoria, ok? Tipo una valigetta con le schede di memoria. E basta. Praticamente questa è la mia postazione. Oltre al coniglio, il quale gli si illumina il sedere, non c'è solo quello. Perché, ovviamente, per rendere più tutto schiccoso, ho installato, come vedete, una barra LED, ok? Delle lucine a LED che cambiano colore, ok? Ok, giallo, diventa azzurro, insomma, poi ci sono varie modalità. Vediamo se riusciamo ad attivarle, ok? Ecco qua, vedete? Cambia colore in modo diverso, più veloce, eccetera. E, niente, quindi, ecco qua. No, questa modalità in realtà non mi piace, quindi la cambio. No, troppo, vabbè, ovviamente si può mettere anche una lucina statica. Quindi che non cambia direzione, ok. Sì, dai. No, così no. Ecco, questa, dai, no. Quale era quella di prima? Forse questa, vabbè, questa. Un po' più dolce, dai. Un cambio, un cambio un po' più dolce. E basta, non... Beh, solo così come... Ah, guarda che si erano illuminati contemporaneamente. Eh, a volte, a volte vanno a tempo. Altre volte, no, questo qua, vabbè, il drone, quando l'ho andato, cos'era ad Asiago, che ho fatto una foto. Cioè, me l'hanno fatta, perché io in realtà stavo guidando. E niente, accendiamo un attimo ancora la luce. E basta. Questo più o meno è quanto, ecco, per farvi vedere la mia postazione. Poi, ovviamente, la ho due tastiere, quella sotto me l'ha regalata e basta. Ogni tanto, ogni tanto suono. C'ho un po' perso la mano, però, vabbè. E niente, per questo video è, direi, tutto. Fatemi sapere, ovviamente, se vi piace, se avete dei consigli da darmi, ben accetti. Eh, sì, non è mai così pulita, in realtà. La scrivania l'ho pulita un po' proprio, insomma, per questo momento, perché di solito è un cincello. E, però, insomma, mi diverto ogni tanto a cambiare in modo, così, le cose, no? L'ordine, la postazione, eccetera. Potremmo, potremmo lanciare anche una cosa. Eh, se vi va, se vi va, potremmo lasciare, potremmo fare una, dico una sorta di sfida, però, se volete inviarci le foto dalla vostra postazione, quindi, non so, come siete organizzati voi a casa, il computer, se avete anche voi due schermi, le casse, insomma, un po', la vostra postazione. Vi lascio qui adesso in sovrimpressione la mail a cui inviare le foto. E, così, insomma, se volete partecipare, ben volentieri, noi faremo, farò probabilmente, perché adesso, insomma, anche il mio cugino non lo posso vedere, siamo tutti, ovviamente, isolati, farò un video reaction in cui commenterò, insomma, vedremo, vedremo le vostre, le vostre postazioni. E, niente, ragazzi, per questo, per questo video è tutto, spero che vi piaccia, e, niente, alla prossima. Ciao, ciao.